Rinnovato, anche quest'anno a Pianella, il rito dell'accensione dell'albero di Natale più grande d'Abruzzo. L'evento, inizialmente previsto per il giorno dell'Immacolata, giorno che la tradizione vuole, come l'inizio delle festività dell'Avvento, è stato posticipato a domenica, viste le condizioni meteo avverse. È stato comunque un pomeriggio di animazione per le tante famiglie che hanno affollato via alle Regina Margherita dalle prime ore del pomeriggio, con elfi, giochi, passeggiate in carrozza e fotoricordo con Babbo Natale. Alle 18, finalmente, il momento clou della giornata, con l'accensione dell'albero di Natale, ormai ultra sessantenne. Innanzitutto siamo tutti molto contenti di aver rinnovato anche quest'anno la tradizione dell'accensione dell'albero più alto d'Abruzzo e un ringraziamento particolare da parte nostra come amministrazione comunale e tutte le associazioni che hanno contribuito a rendere la serata più magica rispetto a quello che già è. Quindi ringraziamo le associazioni del nostro territorio e chi si è occupato di fare animazione, soprattutto per i bambini. Durante le festività natalisi e tante le attività, tra cui il premio Città di Pianella. Sì, il premio Città di Pianella è il nostro rosone che si terrà il 22 di dicembre e altri eventi e premi, soprattutto per i bambini, per rendere questo periodo, che è il periodo più magico dell'anno, migliore di quello che possiamo per la nostra cittadinanza.